Veloci dal largo sono Ondano Malafi e Odino D'Alfa, poi anche Mirriere e Orfeo Jet fanno partenza. Cerca di scattare il grigio di Marcello Di Nicola che trova però la posizione di Mirriere. Numero 3 Orfeo Jet squalificato. Intanto l'errore di Orfeo Jet passa alla fine Odino D'Alfa ma con un velocissimo 14,5 dal numero 6. Ora cerca subito di graduare il grigio di Marcello Di Nicola che arriva ai 400 metri in 32,15,7 la seconda frazione. Mirriere in seconda posizione davanti a Ondano Malafi. Poi vediamo Jacopo Diuc che si affaccia di fuori lungo la corda Indu Jet. Poi a largo vediamo anche Oderzo e Naget Di Poggio in coda e Noi Oda. 600 metri in 46 scarsi, passaggio davanti alle tribune con Odino D'Alfa che conduce sempre davanti a Mirriere. Di fuori Jacopo Diuc che si trascina Oderzo e Naget Di Poggio. 15,1 la frazione davanti alle tribune da parte del grigio che conduce sempre sulla penultima curva davanti a Mirriere. Poi vediamo sempre Ondano Malafi che si mantiene in terza posizione lungo la corda. Ancora di fuori Jacopo Diuc frazione in 15,2 ritmo abbastanza costante da parte di Odino D'Alfa. Sembra già in difficoltà Jacopo Diuc avanzano all'esterno quindi vediamo Oderzo. Frazione delle scuderie passate in 14,7 ha nuovamente allungato Odino D'Alfa sempre a Mirriere in seconda posizione. avanza all'esterno Oderzo poi vediamo anche Ondano Malafi poi prova a uscire anche Induget. Ultima curva col grigio che conduce sempre 14,6 ancora retta d'arrivo Odino D'Alfa in vantaggio attaccato da Oderzo che si butta di dentro. Poi Mirriere spinta anche Induget ma Odino D'Alfa ce l'ha guadagnata tutta e viene a vincere davanti a Oderzo poi Induget. 28,8 gli ultimi 400 metri. 1,14 e mezzo la media al chilometro più che lusinghiera da parte di Odino D'Alfa che paga la quota di 9,01. che dopo partenza al Fulmicotone ha dominato questa categoria E nei confronti di Oderzo valido al secondo posto mentre rivediamo che per il terzo posto a centropista ha sprintato Induget.